OST 2023 continua, ci troviamo allo stand di Celli Group, l'azienda italiana che realizza Sistemi per la distribuzione dell'acqua ma non solo e ci troviamo in compagnia con la Product Marketing Manager di Acqua Alma Anna Cozzo, Anna benvenuta Grazie Fabio, buongiorno a voi Buongiorno a te e benvenuta sui schermi di EurekaTV.it Tante le cose che vediamo intorno a noi e tanto il baccano che sentiamo per tutti coloro che sono intorno a noi e che festeggiano all'interno di questa manifestazione biennale che è una vera e propria festa Anna, che cosa presentate per la linea Acqua Alma? Allora, quest'anno come tutti gli anni quando ci presentiamo appunto in questa fiera presentiamo ovviamente quella che è tutta la nostra gamma quest'anno ci siamo riproposti anche con un qualcosa in più rispetto agli anni scorsi grazie ovviamente all'interno del nostro gruppo dell'azienda Cab che fornisce granitori e continuamente le slash machine e abbiamo riproposto appunto tutta quella che è la nostra gamma più altre novità che sono appunto per il mondo dell'oreca quindi la macchina con la nostra font Acqua Alma quindi la nostra colonna Acqua Alma iconica una font e un impianto completamente movibile, trasportabile all'interno di eventi o all'interno di grandi ristoranti che hanno dei giardini, delle terrazze per esempio e che hanno bisogno ovviamente di spazio e anche di grandi macchine con un certo tipo di capacità quindi con tante persone al loro seguito oppure anche magari prodotti nuovi come per esempio la nuova Niagara che è un prodotto tipico per Orica, storico per noi ma in una nuova veste con una nuova veste in cui c'è la possibilità di avere anche lì il senso di mobilità quindi anche un senso di semplicità oltretutto legato anche al fatto che abbiamo aggiunto altre caratteristiche in più come può essere per esempio il sizing dei prodotti o anche in alcuni casi anche la possibilità di essere spostata da una parte o dall'altra del ristorante qualche uno ne voglia oltretutto una serie di rubinetti nuovi ovviamente piccoli o grandi anche per piccole caffetterie o piccole gelaterie che possono essere utilizzati con tutti i nostri impianti attualmente in commercio beh io direi non sono poi così poche le cose che avete presentato esattamente esattamente poi ecco diciamo che quest'anno ci siamo spostati nel settore pasticceria verso quello che abbiamo fatto negli anni scorsi nel settore caffetteria e ci ha ripagato molto molto bene per quanto riguarda anche in termini di affluenza ne siamo molto contenti ma che bravi e allora Anna forniamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale coloro che sono dall'altra parte possono scrivervi richiedere maggiori informazioni e chissà diventare vostri clienti assolutamente potete contattare l'indirizzo email info chiocciolacqualma.com tutti i nostri ovviamente operatori saranno a vostra disposizione per qualche sia di tipo di informazione avete bisogno grazie grazie per la pillola ci incontriamo prossimamente in un altro evento con tante altre novità del gruppo Celli grazie Fabio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti